Ciao ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo video Allora, molti di voi mi avete chiesto di giocare a Brawl Stars Che è più o meno il gioco del momento perché hanno iniziato in molti miei amici Allora, vi ricordate che avevo fatto una partita su Tine Pippo ma era proprio la mia prima partita Adesso, dopo che ho detto, non mi ha detto fai che ho, non so, poi mille In realtà non doppio però No, è davvero un casino e infatti adesso andiamo su Brawl L'ho già sbloccato, ieri ho trovato un nuovo Brawler epico e oggi ne ho sbloccato un altro Ho 18 Brawler, me lo ricordo perché ho fatto una sfida con il mio amico E quindi adesso partiamo a giocare Ragazzi, prima di giocare vi voglio far vedere i Toffee che ho, 2076 E poi tutti i Brawler che ho, 18 non sono molti Allora, ho Shelly, vabbè, Brawler iniziale Poi Steak Jesse dei 508 Rofei, Pocho, Badil, Penny, vabbè, tutti ho finito i superiari rari Me manca Pam, Epico e BB Ieri ho trovato Bea e oggi ho sbloccato Dynamite Che non userò perché oggi userò Bea Allora, iniziamo a giocare Allora, userò Bea Vediamo un po' come va Dai, voglio uno fold Allora faremo sopravvivenza in due La coppia, magari dopo mi fa una o due solo Vediamo un po' Dai, non mai Ho chiamato Brawler Era l'ultimo, ho detto Bea Quindi un po' cambiamo Dai, non mai Vediamo un po' Vediamo che vada bene E che magari noto ad esempio 40 persone Bravo, quel Frank, quel 1600 Mi ha dato un po' Dai, questo Mi accompagno a nascosti in mezzo di ciaspugli Su, non nasconderti in mezzo di ciaspugli Bravo, ultimo ha chiamato la coppia Guarda, 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 questo sta girando intorno e non fa niente Allora, se tu vado un superiore, va diventata girante, dove siete? Sì Se mai incontro qualcuno, non li devo passare Allora, c'è E mi è finito Non è pronto Dai, non ne contavo nessuno in quei 4 secondi che non ho potenzialmente Vediamo Vediamo La squadra di Master Ah Attenzione Ehm, mi sa che adesso andiamo uno vissu Uno vissu Uno vissu Sto animando No Ragazzi, ho paura io No 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 Ragazzi, voi mi spiegate questa cosa Allora Ehm, io avevo il potenziamento Lo non l'avevano Ehm, Frank tipo mi ha fatto un casino Come ho fatto? Mi mancava 17 tofei e arriva 2100 Ehm 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 Vediamo un po' Dynamite Distruggi tutto Ragazzi, dopo vi faccio vedere una cosa Lo zainetto dietro Che apre Cioè i missi Non c'è Ehm Ehm Certo Rockstar Puoi morire? Molto presso Ehm 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 No ragazzi c'è un corvo E E Ehm 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 Come avete fatto Shelly a Con un colpo ad avermi ucciso Come avete fatto? Mi ha fatto tipo 3.000 di vita con un colpo Prima Frank, vabbè Frank aveva 14 punti Per Prova La partita colt C'è colta che mi Grazie Questo colt non è Ehm 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 Bravo amico Stai lì Ehm 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 Ragazzi Faccio una butta fine No Lore Dai questo Ragazzi Dai il mio amico ha 5 dai bellissimo di tà Ragazzi sto bene anche tutto Dai Questa qua ce la vinciamo ragazzi finali Mi sa che questa qua è la penultima e poi me lo faccio nessuno Ciao Ciao Se volete posso fare un video Un giorno che magari poi proviamo a fare per tutti Non so Provo Ragazzi 2 squadre rimaste Ueeee World Champions Vittoria Quando senti di Dynamike Possiamo aprirci No non possiamo aprirci la cesta Ehm Siamo a 2.092 Ragazzi Ultima Ma per arrivare a 2.100 in direct Ultima per arrivare a 2.100 Chi è? Que- Ok abbiamo vinto Con- Con Pocho Pensate Che Pocho comunque Non è male Io avevo fatto qualche partita con Pocho Il potenziamento Il potenziamento che cura Devasta tutto È troppo forte con il potenziamento Dai! Come fa una cassa ravea? Muori Ultimo Basta Ultimo tentativo per i 2.100 Oddi Proviamo Proviamo Allora Anita Ultimo Allora Scusate per la tosse ma sto Ma c'ho la tosse quindi Arriva qualcuno L'ingiustizia L'ingiustizia quando vengono Ehm Vengono Ehm Vi spiego Sapete tipo quando dovete spaccare le casse di sopravvivenza Che vi vengono addosso e si vendono le vostre casse Ha un senso logico o Basta È finita Ragazzi il video è finito Siamo a 2.090 trofei Non ne faccio un'altra Ragazzi voglio far vedere questa cosa guardate Lo zaino di dynamite Cioè Dovete fare Dovete guardarlo bene È più grande del suo corpo Lo zaino di dynamite Cioè non so come faccio Assalterai con lo zaino Guardate che carino Allora vi faccio vedere Ehm Ehm Aspettatevi Ragazzi solamente per voi Per T.E.P. poi questo qua Lo potremmo fare su T.E.P. Nita Panda Faccio vedere Nita Panda Nita Panda Nita Panda Nita Panda Combattente Allora vi voglio dire una cosa Continuatevi ad iscrivere Perché da poco ci sarà il mio speciale Sto per arrivare il taguardo Svelevo gli iscritti E quindi iscrivetevi Prima voglio salutare però Alcuni di voi Allora Matteo Marconi Francesco Pesi Giorgio Gamer Aurora Patti Niccolò Maruccia Cinzia Quattroocchi Francesca Rubino End Enter Paolo Cassano Ciro Ario Stini Elisa Liscia Allora ragazzi Ovviamente spogliate se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi per uno speciale Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao